Fedez ha annunciato il suo ritorno al tavolo dei giudici di X Factor. Nel periodo più intenso e difficile della sua vita, il rapper ha comunicato la notizia ai suoi followers tramite Instagram. Si torna a casa, ha scritto il cantante nella didascalia del video pubblicato, che raccoglie i momenti più emozionanti delle cinque edizioni a cui ha preso parte, tra il 2014 e il 2018. Il giudice, che alla sua prima esperienza aveva portato alla vittoria Lorenzo Fragola, ha lasciato trapelare la propria gioia incontenibile attraverso una storia. Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro e invece oggi un'idea ce l'ho, ha spiegato il marito di Chiara Ferragni con il sorriso sulle labbra. Si torna a casa, oggi è il giorno di un nuovo debutto.